Usa questo trucco per farlo innamorare. I trucchi per farlo innamorare non sono quelli che indossi o che ti metti sulla faccia, ma sono quelli comportamentali. Inizia a essere presente con un uomo, cerca di trovare quelle che sono le sue linee di interesse per passioni, hobbies o cose che gli piacciono moltissimo nella sua vita. Adesso prova ad elogiarle, fallo sentire un vero uomo, digli magari che è molto bravo al lavoro e digli magari che è anche bravo quando leggete dei libri insieme. Ovviamente per libri si intende quelli interessanti, come il Vangelo. Adesso una volta che hai fatto questo, l'hai elogiato, poi prova a ridurre gradualmente tutte le fasi e le situazioni dove lo elogi, prova ad alternarle. Ci saranno dei giorni dove sarai più elogianne e dei giorni dove sarai screditane. Questo genererà degli spikes emotivi, quindi delle botte emotive, che teoricamente potrebbero far sì che il suo investimento aumenti gravosamente nei tuoi confronti. Mi raccomando non esagerare, altrimenti poi sarà...